Doraemon E ho deciso che mi impegnerò, così la prossima volta non prenderò zero Oggi la mia mamma mi ha dato la paghetta Ma hai visto una cosa del genere, Nobita che studia Nobita, tu sei il mio errore 38 120 divisa 3 40 13 per 5 65 25 per 3 75 400 divisa 4 125 divisa 5 uguale a 25 Nobita, so che farai del tuo meglio nel compito di domani Sono sicuro che andrà benissimo Nobita Al cinema Nobita a